Sono 7.997 nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 46.517 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente nuovi positivi erano 8.133. Il tasso di positività scende al 18,4%, ieri era al 18,5%. L'isola è il nono posto per contagi. Al primo posto c'è la Lombardia, al secondo il Veneto, poi l'Emilia Romagna, la Campania, il Piemonte, la Toscana, il Lazio e la Puglia. Gli attuali positivi in Sicilia sono poco meno di 200.000, in particolare 197.017 con un aumento di 6.215 casi. Ci sono stati 1.728 guariti, mentre le vittime sono 34 e portano il totale dei decessi a 8.087. Sul fronte ospedaliero sono 1.573 le persone ricoverate, con 17 casi in più rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 170, lo stesso numero di 24 ore fa. Sul fronte del contagio nelle singole province, dei 7.997 nuovi casi covid, 620 sono stati nella sola provincia di Agrigento. Questa è la situazione nelle altre province. Palermo 1.956 casi, Catania 1.979, Messina 586, Siracusa 804, Trapani 627, Ragusa 779, Caltanissetta 541, Enna 105. Grazie a tutti.